Sono sempre più un aumento i randaggi in città, la cui presenza di certo non rassicura i cittadini che temono di essere aggrediti dai branchi che spesso circolano indisturbati tra le vie più frequentate della città. Per risolvere questa emergenza, l'amministrazione comunale ha incontrato a porte chiuse il direttore sanitario Marcella Santino in una riunione a porte chiuse nella direzione dell'ASP. Numerose le criticità affrontate nel corso dell'incontro, tra queste un appello alle associazioni animaliste nissene a collaborare più attivamente per cercare di sanare l'emergenza randaggi in città, oltre all'impegno da parte dei cittadini a non abbandonare i loro cani agli angoli della strada. Un incontro molto proficuo ed è soltanto il primo di una serie di incontri, in quanto abbiamo stabilito di insediare una commissione tecnica che valuterà tutte le problematiche inerenti al randaggismo, soprattutto puntando su due problemi o forse su tre. Il primo problema è la sicurezza dei cittadini che sta a cuore tanto all'azienda quanto agli enti locali, quanto a tutti gli attori di questa riunione odierna, comunque è tra le missioni proprie, tra i compiti propri dei due enti. Il secondo è quello del benessere degli animali, tutelando il benessere degli animali e anche con l'aiuto e con la collaborazione delle associazioni che dovrebbero avere un ruolo attivo proprio nel far sì che questi animali possano avere il meglio non rimanendo per strada. È ovvio che è un problema che per essere risolto ha bisogno di tempo e di organizzazione. La collaborazione con l'ASP, che abbiamo attivato già da molti mesi, è una collaborazione proficua. Abbiamo affrontato il primo problema delle sterilizzazioni, che adesso però necessita di approcci ancora più determinati. In questo appunto stiamo programmando una serie di iniziative che pensiamo debbano coinvolgere anche le associazioni che si occupano della tutela degli animali, perché da un lato dobbiamo continuare a tutelare gli animali, dall'altro dobbiamo garantire la sicurezza per i cittadini. Invitiamo sempre la cittadinanza a evitare di portare cibo e acqua ai cani sempre nello stesso posto, perché questo genera la formazione dei branchi che diventano residenziali sul territorio, quindi riconoscono quel territorio in cui viene portato il cibo con costanza come un territorio proprio. E questa è una delle cause delle aggressioni di chi invece transita casualmente o casualmente da quello stesso territorio.